e amiche di serie game italia dovremmo esserci dovremmo forse chi lo sa vediamo se questa live su ok ci siamo ci siamo ci siamo una live un po improvvisa da ieri perché abbiamo decisa perché c'è arrivata la demo anzi la beta scusate di naruto tuboruto shinobi striker che penso sia il primo titolo di naruto con un titolo non incredibilmente lungo e quindi volevo provarmi insieme a voi adesso fatemi cambiare un attimo il titolo perché come sempre mi sono identificato modifica non credo neanche ci sia il titolo in sé dentro a twitch naruto tuboruto shinobi striker beta lo sbambo della foglia ok aspettate un secondo non penso ci sia a no c'è incredibile incredibile davvero c'è quindi ci mettiamo naruto naruto suboruto naruto naruto basta ok vediamo se cambia il titolo non cambia il titolo mannaggia twitch ragazzi quanto io odio twitch non lo so ma vabbè perché 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 non mi vuoi cambiare mai il titolo santa polenta perché però i tag me li cambi ma sei stronzo twitch sei stronzo beta lo sbambo della foglia mannaggia twitch dai che ce la puoi fare ce la puoi fare twitch oh finalmente ci siamo ok ci siamo ci siamo finalmente eccoci qua devo dire che non non so niente di boruto che è il figlio di è un secondo si oggetto ad provare specifica a una claudola specifica la sezione 10 andiamo a vedere la sezione 10 ragazzi non si sa mai magari non possiamo neanche trasmetterlo sezione 10 diritto di recesso i recessi i mesi di acquisti l'utente di noi il resto è sempre no non sono non sono vincoli di trasmissione eccetera eccetera ok non si sa mai si va bene va bene c'è stato utente europeo quindi possiamo tranquillamente trasmettere ok politica sulla privacy 20 giugno 2017 fantastico condivisione informazioni no ok no queste sono le condivisioni degli utenti di guardare reclami no vabbè accesso ai server vediamo se prima o poi riusciremo a giocare stavo dicendo stavo dicendo non posso posso creare legge della foglia della sabbia della nebbia della roccia nuvola no dai foglia va facciamo easy peasy aspettate un secondo ok maschio femmina vedere il maschio tipo di corpo oh che bello che posso non posso spersonalizzare capelli bababia bababia ragazzi che capelli osceni però mi metto qua così stile shikamario bocca uno bocca occhi uno occhi pupille una pupilla sopracciglia una sopracciglia naso e allora che cacchio me lo fai a fare niente e se non posso anche scegliere colore dei capelli bianchi blu rossi colore della pelle bianco che brutto colore occhi viola colore del coprifronte non abbiamo un coprifronte quindi che cacchio me lo fai a fare non capisco ragazzi non capisco vabbè coprifronte non c'è il coprifronte quindi che cacchio come faccio a vederlo io va bene va bene conferma ragazzi voce per forza registra l'avatar non posso inserire neanche il nome gioco con questo avatar grazie micchia che belli ci siamo stavo dicendo non conosco la storia di Boruto il figlio di Naruto non voglio sbagliare niente però c'è so più o meno qualcosina neanche tanto in realtà non non mastico così tanto Naruto da un bel po' e quindi sono rimasto un po' indietro niente siamo qua nella schermata vediamo un po' cosa succede e niente ragazzi siamo qua e la beta molto bella ok possiamo iniziare a fare qualcosa no non si può ragazzi ehi gioco ci sei batti un colpo niente questa diretta è stata bella finché durata ah finalmente può cambiare il tipo di ruolo nel equipaggiamento quando viene rianimato dopo essere finito il tappeto beh si se no non potrei essere rianimato effettivamente ha senso il demonetasso attenzione tanto stavo pensando anche di comprarmi la collection di Naruto quella con i primi tre capitoli perché volevo rigiocare volevo giocare a Naruto e quale occasione migliore del Natale per oh primi passi nel villaggio mi è voluto il villaggio della foglia tu sei uno dei ninja della nuova generazione futuro del mondo ninja fidata a voi qui prenderai parte è il campionato mondiale dei ninja un troppo di quantità organizzata a villaggio ottimo primi passi nel villaggio ora prenderai le basi prima cosa ti muovi con vabbè premix parlai con la gente vai da Kakashi per parlargli oh guardate che bello ragazzi però compagni per una missione ok mamma mia ragazzi se è così se è un MMO cioè se c'è la parte multiplayer così è una figata pazzesca thanks for coming primi passi nel villaggio questa è l'arena delle arti ninja VR arti ninja VR due quali allenati grazie alla realtà virtuale ok qui potrei partire a missioni di allenamento e potrei anche misurare contro leggendari ninja del passato urca parti con la missione di allenamento operazioni di base come avrai capito se sarà una missione che spiega le basi di combattimento non l'avrei mai detto intanto Muffin scrive conto su di te devi seguire questa lezione per poter usare al meglio attrezzi dell'arte ninja cominciamo cominciamo diciamo di si missioni di allenamento ok per forza operazioni di base va bene studi alla battaglia la composizione della squadra nemica quindi modifica il equipaggiamento prima di tornare a combattere recepito capo vediamo un po' com'è questo naruto beruto operazioni di base ah forse questo qua tra l'altro l'ho visto in video questo pezzo qua per essere la foglia sbambone minchia che brutto che sono ok però guardate come è fatto bene ragazzi mi piace mi piace ragazzi mi piace come è fatto cerca di venire verso di me vabbè questa roba qua è facile no ha saltato mannaggia però ancora è super pendivo quale? questo che figata però ma che bello è che bello ragazzi mi piace un sacco come è fatto minchia sembro un malatto di me dei salti con chakra ok quella madonna quanto cassa ha saltato crazy io ho dovuto R2 per caricare del chakra nelle gambe no no vabbè ah ho capito vabbè va bene anche così ma è bellissimo è bellissimo ragazzi a parte che sto volando ma vabbè però è molto molto bello ragazzi mi piace un sacco kunai con cavo R2 a mezzaria premi R2 durante un saldo per lanciare un kunai con cavo quando il kunai con cavo si aggancia alla parete potrei aggiungere rapidamente eh no però non ah forse devo tenere premuto ah la venga la lampa da fuori ha otto porta del chakra e no e no però ah devo schiacciare i x ok ho capito va bene capito adesso ti insegniamo come attaccare così per attaccare il tuo avversario per inquadrato per eseguire un attacco ravvicinato e triangolo per eseguire un attacco potente le caratteristiche degli attacchi variano in base al tipo del presaglio usato dovrai capire come funziona 1-10 questo taglio è meglio beh ma che bello è no ragazzi ragazzi è bellissimo sto gioco la chiave di ogni attacco e non perdere mai quello che non ho letto usa r3 per acquisire un uic ok il il lock perché voglio andare di qua attrazione ninja premi il cerchio per usare un attrazione ninja gli attrazi ninja ti permettono di colpire i nemici da lontano allora quando il nemico ti attacca devi proteggere il tuo corpo da una cosa di guardia ok L2 mamma mia quanto sono intelligente prima R2 mentre si in guardia per allontanare il nemico L2 e più L schivata vabbè mi ha non vedo non vedo madonna vabbè non ho ben capito questa cosa che era schivata ah ho capito it's over mamma mia se non hai il tempo necessario per mettere in guardia e schivare ricorda che mi puoi ricorre a tecna sostituzione no ma è fatto troppo bene ragazzi mi piace un sacco subendo un po' può usare R2 per esaminare la sua sostituzione dopo che l'ho fatto dovrei attendere un po' prima di poter ricorrere al nuovo sistema ok ah ok devi proprio premere al momento giusto perché sennò ti parte oh ero il cazzo eh no ti parte proprio madonna no non vedo sa cosa dell'R2 però non è molto ah yeah vabbè non è molto semplice da usare addestramento arte ninja jutsu arte ninja L1 R1 per tirare la tua arte ninja L1 R1 e le arte ninja diverse se non ho provato il tasso dell'arte ninja aiuterai il tempo di ricarica e giustare per poterlo usare di nuovo ma è Rasengan fantastico ahia oh sono morito però madonna mia tecniche supreme tecniche supreme arte ninja quando l'indicatore della tecnica suprema si riempie premi su per attivare questa potente arte ninja l'indicatore della tecnica suprema si riempie per passare di tempo ok e vabbè oh zio con calma però eh bene finito l'all-l-l-baze missione completata ma guarda che bello ragazzi Anche Rasenganz lo fa da dio No no Il suo gioco sarà incredibile Operazione di base Punti 3454 I risultati chiuderanno in 12 secondi Livello 1 Ma guarda quante robe Punto grado di Esagerato No comunque ragazzi Il suo gioco qua ha tanta roba Mi sa che quasi quasi Il problema è che Non so Non ho ancora letto di cosa Si è concentrato effettivamente Quindi non so dirvi Se il gioco tratterà solo Boruto O Riprenderà in generale Naruto Così però Naruto tu Boruto Probabilmente Primi passi nel villaggio Lungato insieme per aver soprato la missione di comando di base Ora sei un ninja sotto gli effetti Contiene allenati duramente Per diventare più forte Grazie Bene Primi passi nel villaggio A momento puoi accedere anche alla taverna E alla magia Dello Kage Guarda quanta gente che c'è Ciao 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 Sì ok Non so bene cosa dovrei fare Ok Se è un po' inutile in questa beta E niente Vediamo un po' Qua non c'è una seghina Lì ci sono Lì c'è il No cosa ho fatto Non lo so Cosa 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 dovrei fare Andiamo Andiamo qua Per forza Sì Decisamente Proviamo ad andare Andare qua Vediamo se ci da qualche missione Sennò per questa beta Non vedo Il perché Shikamaru Oh Prima sei mai Ora siamo nella magia Dello Kage Da pista Ingrado Eccetera Il campionato mondiale Ninja Ora proviamo Una battaglia Bandiera C'è un nascondo Che due squadre Si rubano Delle bandiere Ah Cattro la bandiera Ok Vuoi entrare nella magia Dello Kage Sì Eh Se non lo trovo apposta Oh Così Ah Lo Kage e Naruto Splendido Partita veloce Ok Ok Una partita online Quindi Ottimo 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 Quanta gente c'è Non lo so Si uscita Ok Errore diretto Eh Va bene Eh Devo dire che Non è molto stabile Per ora Partita veloce Vediamo se ce la trova Con tutta sta gente Non troviamo Sette cristiani Fuliché Quang quang Quanti Ci sono Ragazzi Troppe Cinque su otto Forza di battaglia Ma essere Ninja Non so Non so Cosa abbia fatto Gioco Ti dà Un maestro Vabbè Ragazzi Cacassi Ovviamente Però Non ho ancora Capito Se Qua Non posso Andare Cinque su otto Eh Sta cercando Guarda che bello Questo qui No Aspettavo Giustissimo Posso fare nulla Sei su otto Ah Gest No E come ho fatto A fare gesti Ah Ok Hi there Che bello Sigillo Aia Che figata Ma scusami Ma la mia partita Ah Così proprio Se n'è andata Beh ma Scusami Ma stavo cercando Una partita Non me la fa Non me la fa Cercare Cerchiamo Altro Vediamo se Non lo fa Non fa selezionare Selezionare Boh Se so Non riesco a capire Negozio Attrezzi ninja Taverna Prima Se questa è la terra Proprio di qua Il tuo aspetto E il tuo agente Può portare Con te in battaglia Allenandoti Otterrai diversi oggetti Se trovi qualcosa Interessante Ottimo Non puoi tenere La struttura Durante la rena Non abbina niente Ok Però Non abbina niente Siamo Biblioteca Dell'arte ninja Sasuke Guarda Che roba Non puoi entrare Niente In questa struttura Va bene Va bene Va bene Quindi posso fare Un cazzo Esattamente E' brutta Su tizio Maronna Ma tu puoi Gessere un ombrello Ma vedi te E niente Ragazzi Aspettiamo Proviamo a uscire di nuovo Dai Ecco tutte Se persone Qua Non è così Entriamo Sette cristiani Per giocare Partita Veloce Vediamo Se ce la facciamo 8 su 8 Così Ricerca Con pesata Ok Sì ma Io avrei voluto Tanto usare Kakashi Ma Se sei cadendo Se sei cadendo Ma ancora Non vuoi arrenderti Usa un konai Con il cavo Per tornare in gioco Va bene Vediamo un po' Com'è questo Questa cattura La bandiera Con Naruto Vediamo Sono proprio curioso Battaglia bandiera Riporta a casa La bandiera Nemica Classico Cattura La bandiera Ah Sono Kakashi Però Ok Ah Solo Anderson E lui Ok C'è Sasuke Un altro Kakashi Oh Cos'è Sarà Oh Oh Mongolo E vabbè ma non mi fa andar via Non si capisce che è una fega Che cacciata ragazzi Non è che si capisca moltissimo Poi si va a prendere la bandiera Con qui si è in corso Ho la bandiera Ho la bandiera Dai zio Non sale Aiuto Quanto è lento Quanto è lento Aiuto Uh bandiera è stata presa Eccezionale Mamma mia ragazzi E' bellissimo il suo gioco E' il problema che è un po' incasinato Non posso correre un po' di più Oh oh Nooo Mi ha ucciso Mannaggia a lui Dance pizzi qua Dance pizzi Rientra 3 2 1 Ok Dove cacciare la bandiera Ok di qua Ragazzi Doveva salire in cerchio Per prendere la bandiera Non l'avete capito Oh oh No 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 Ma cos'è Sì Sì C'è po' Oh oh Zio Malaga Zio Pera Poi non riesco a prendere Non riesco a usare mille fatti K Super Stupendo Il tuo alleato ha perso la bandiera Dai No L'ha ripresa Che cazzo Mi ha ucciso? Ma dai Ma mi ha tolto metà vita Pazzesco Mi ha tolto cazzo Di metà vita Oh Mongolo Ma cosa fa? Ragazzi Dobbiamo prendere la bandiera Zio Pera Che bello Ma che bello è il suo gioco Ragazzi No 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 È ufficialmente Fantastico Ok Oh Ho perso la bandiera Bastardo Oh È rotto il cazzo Sasuke di merda Dai Che rotti In culo Vabbè ragazzi Non posso E non posso muovermi Che cazzo fa? Perché? Perché sei andato in dito da solo? Sì ma non ho più Non ho più vita ragazzi Ok Zio Però mi devi difendere Mi devi difendere Non corro Aiuto 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 No 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 Sì Due bandiere prese ragazzi The dream The dream È bellissimo Il suo gioco È bellissimo Ma poi è fatto È fatto da dio Devo dire Mi piace un sacco Questa grafica Il problema è che Adesso morirò Mamma mia Ma non si capisce Cazzo K.O Quanti K.O. Ho fatto Li ho fatti tutti K.O. Ma quanto sono Forte Prendo la bandiera Olè No 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 Dai che sei ancora vivo Zio Ma non capisco bene La tecnica Del Non capisco La tecnica Del R2 Oh Cos'è Ma non c'era Nessuno Vabbè Non capisco La tecnica Della R2 Con il rampino No Il kunai Col salto È un po' strana Come on Vabbè Questo qua Si è buttato giù Zio Però devi muoverti Un po' Hai vinto Olè Ragazzi Olè Opla Come si suol dire Abbiamo dominato Però è stato Molto divertente Perché è l'ultimo Cioè ragazzi Ho preso Quattro bandiere E sono arrivato Ultimo Vabbè Non capisco Sinceramente Ci ho fatto vincere La partita La mia squadra Con due bandiere Prese Non so perché Mi ha dato quattro Ma Oh Cacchiordi Vabbè Ho fatto Ho fatto Metà Dei punti Del primo Che non ha preso Nessuna bandiera Va bene Va bene Va bene Ok Vediamo un po' Se riusciamo a fare Qualcos'altro Se no Ok Ricerca completata Già La ricerca di che Tanto la taverna Vediamo cosa c'è La taverna Esci dall'abbinamento Vuoi andare la taverna Sì Vediamo un po' Cosa c'è Ah Aspetto Posso Cambiare l'aspetto Limpaggiamento Slot 1 Attacco Tipo di ruolo Attacco Ah Guarda che bello Arte ninja Ok Sostituzione 8 porte del chakra Oh Ma guarda che bello Posso inviare poi Si può anche inviare Un sacco di robe Eh Per ora Non c'è molto Da fare Infatti Non so neanche perché Siamo tutti qui Ma Non c'è qualcosa di PvP Di PvE O c'è solo PvP Qua non posso andare Di sicuro No Ok No Penso ci sia solo Pv o PvE Allora Io ti credo Arte ninja Non posso entrare Però Pensavo ci fosse Non so Un Un Qualcola di PvE Potevano metterlo Arena delle arti Non mi serve Ma non posso andare E niente Posso solo Fare le partite Cattolo la bandiera Però Come lag Wash my back Momentare la magione Si Eh va bene Partita veloce Ozione di battaglia Stavolta Scegliamo Va Naruto 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 Io credo In me E a Naruto Dico Addio Qua non c'è niente Oh c'è un gatto Ciao miccio Ciao miccio No Pensavo che si potesse Affrontare il demone Tasso Quello che si era fatto Avevamo visto Nel In alcuni filmati Invece Non credo Guardate qua Che macello Di roba Eh Arena delle arti Ninja Non possiamo Ah c'è davvero Solo Possiamo dare Peccato Peccato Vabbè quindi direi che Possiamo anche Fare un'altra partita E poi Chiudiamo la live Perché Non c'è altro Da far vedere Ovviamente Si riesce a trovare Questi due personaggi Tutti Amici Della foglia Forse Non è che Selezionando Ah no Però Siamo tutti qua Credo Anche quelli Del Del Full Cioè Delle Delle nuvole Blah 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 Anche gli altri Sono In questa lobby Quindi penso Che sia solo Questo Il villaggio Sette su otto Ce la faremo In sicuro Lì è il sette Quanto caccia Ha giocato La battaglia Inizierà Tra Ok Ovviamente Siamo noi In tre Beh È giusto Ragazzi È giusto Sempre così Va Sempre così Di Sì Vediamo, vediamo, vediamo un po' come andrà questa partita, se riuscirò a dominare. Ok, ah no, siamo in quattro anche noi, ottimo. Sono io, Naruto e Kakashi, mentre gli altri sono loro. Ah, c'ho il super poso, attacchiamo la modificazione del corpo. Oh, quanto lagga? Quanto lagga? Quanto sta laggando, ragazzi, in questa partita? Oh, 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 non si capisce niente. Oh, che cacchio, che cacchio è successo? Ah, io me ne vado? Oh, ma non si capisce un cacchio in questa partita? Ah, io ho conquisto la mia bandierina. No, oh, ma perché? Perché non sai, non sei capace di tuffarti? Non mi ha visto. Dove cazzo devo andare? Oh, ma cos'è? Oh, quanto lagga! Quanto lagga è questa partita? Non capisco nulla. Mio Dio! Però, la bandiera l'abbiamo portata. Eh, vabbè. Oh, oh, ma che cazzo è? Ma non ero per niente qua. Ma non c'è nessuno! Ma cosa sta succedendo? Vabbè, ragazzi, alla fine sono caduto nel nulla. Vabbè. Ok. Cioè, ero sopra da me. All'un certo punto mi sono aiutato dall'altra parte. E all'un certo punto sono caduto in mezzo. Ok. Dobbiamo difendere la bandiera, ragazzi. Io vado in una scoperta, eh. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Naruto! Sei drogato? Naruto tu drogato? Altro che... Aia! Bastardo di merda! Eh, la madonna! Che cazzo è? Freezer? Oh, addio! Ma come... Ma non riesco a fare nulla! Non capisco niente! Vabbè, no, no way I can't lose. Morto, perché non capisco un cazzo. Vabbè. Va bene. Devo dire che... La connessione non è il massimo, eh. Intanto io vado a prendere la bandiera, ragazzi. Tranquilli. Infatti se non si capisce una sega... Io ci provo. Dai, siete in tre? Io vado, eh. Ma... Ma che cazzo succede? Non l'ho ben capito, perché mi abbia tolto tutta l'energia e poi l'abbia ripresa, ma... No, cos'è successo? Perché? Vabbè, non riesco a capire cosa sia successo, ma va bene. Sarà, boh, svampato tutto. Sei uscito dalla stanza? Grazie, allora direte. Come sempre sei molto... Molto carino. Eh, boh, ma cosa sta succedendo, cosa a caso, questo gioco? Non lo so. Niente, dai, proviamo l'ultima partita. Anche se avrei voluto fare qualcosa di PVE, ma... Mi sa che non c'è. Opzione battaglia. Opzione battaglia. Direi di provare Sasuke. Sasuke. Sasuke, 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 guerriero nobile. Sasuke, Sasuke, guerriero nobile. E... Ah, ma sei uscito? Non c'è problema di rete in testa. Vediamo se ce la facciamo Ce la faremo Trovare un'altra partita Che non laghi come l'ultima Zio Perez Vediamo un po' 2 su 8 Non va bene 2 su 8 ancora ragazzi Non trovo le partite facilmente 3 su 8 Ce la faremo Ciao mi dispiace Mi dispiace anche a me che non trovi le partite Non ce la faremo mai ragazzi Scusate Dai ce la possiamo fare Trovare una partita In questa live ci sono state Più o meno 4 partite E 20.000 Anni Di attesa Non ce la possiamo fare Ragazzi allora niente Esce dall'avvinamento Dai vorrei fare l'ultima partita Per chiudere la live Ma Mi sembra che non sia possibile 3 su 8 Addirittura 4 su 8 Dai ce la possiamo fare No eh Non ce la faremo mai E niente Siamo qua Siamo qua a cercare le partite ragazzi Da più o meno 10 minuti Si è uscito dalla stanza Ma non ce l'ho neanche nella stanza Si opera Partita veloce Proviamo 7 su 8 Forse ce la facciamo ragazzi Forse Forse ce la facciamo Forse 8 su 8 Incredibile Ce la potremmo aver fatta Si ce l'abbiamo fatta Incredibile Finalmente Vediamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ok Foresta della folia Ce la faremo Ce la faremo 3 Sasuke Ragazzi Pazzesco 3 Sasuke No Però sono nella parte Dove Non ho ancora giocato No 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 Ma dai Ma ragazzi Ma non salta più Vabbè Eh mi sa che questa la perdiamo Eh A naso Aia Firebomb Jutsu Di merda Oh ma che c'è Chi è Ah K.O Suka Grande C'è la bandiera Eh io non so Perché Faccio un po' Cose a caso No Sbagliato Ah la base La bandiera Ce l'abbiamo noi Zio Aspetta K.O Stupendo Oh la bandiera è stata presa Aiaiai Non va molto bene Su Suka Su Suka No 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 Eh vabbè Ragazzi Non ci arriva Non ci arriva Ragazzi Non ci arriva Fammi vedere Il risultato Comunque siamo 1 a 0 Vediamo cosa Cosa Lui l'ha Mado Ah 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 Non capisco Però Il mio mille fight Che K.O Stupendo Ah li abbiamo ucciso tutti e 3 Fantastico Da Come K.O Ma ragazzi Ma Oh L'ho evitato Sono saltato via Ah beh Ero fuori dal cono E eh Niente Il cono Mi ha preso E io non so neanche chiacchio di shinobi tutti uguali, no, se meno male che sta roba qua Oh, mongolo, c'ha poco Nikonai, lo stesso mi ha fatto lui, si ma non si riprende ragazzi, c'è che lo salto non si riprende, dai Sasuke, svegliati, 2, 1, dai che ci siamo Io rimango qua alla bandiera, non c'è nessuno Scherzavo 5 minuti, quasi si è ricaricata la mia ulti Guardalo lì Mi fa lì, super Ahiai, non capisco un cazzo, non capisco Non sono anche un cazzo a mia parte Oh, oh, oh Vabbè ragazzi, ma, cioè, l'ho preso, l'ho preso, non ho tolto, non ho tolto vita con la palla di fuoco Are you mad? Are you mad bro? Cioè, non l'ho tolto nulla con la palla di fuoco, ma stiamo scherzando La tecnica suprema di Sasuke, incredibile, il modo del poker, non l'ho tolto nulla Vabbè Pazzesco Ragnecolà Che prego il neon Vabbè oh e zio me lo fai usare sta palla di fuoco ok dai prendo la bandiera intanto help me sì vabbè ma zio oh ma zio ma me la fai sta palla di fuoco di merda o figa e c'era così tanto no levitata bastardo è tutto però vabbè vabbè a caso proprio mi ha preso su qua così a random non mi ha preso mai ma va bene abbiamo la bandiera abbiamo vero grande zio fuori 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 grande si è passato la vittoria KO stupendo ma io ho capito se sono mille fatti se me lo utilizza oppure non so beh però se ti stanno video che non riesci a controbattere time to end this però ragazzi è bellissimo sul gioco no mi ha fatto la palla di fuoco se è nulla oh guardate eh se ti stanno però non ce la fai mai controbattere KO stupendo oh hai vinto ragazzi hai vinto eccezionabile ottimo 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 benissimo stavolta non so eh ah ok siamo arrivati i secondi 5110 oh livello 2 addirittura eh non so che voglia dire perché non posso utilizzare nulla di più quindi vivo ma va bene in gioco in ruolo curativo non c'erano il combattimento diretto grazie va bene ragazzi va bene direi che possiamo anche chiudere qui la live visto che ci siamo ci siamo dati abbiamo vinto due partite anzi due e mezzo perché una ho portato no ho portato una bandiera nella seconda non lo so però vabbè comunque due partite finite due partite vinte va direi molto più che bene e siamo arrivati a livello 2 vabbè non c'è molto da fare purtroppo in questa vita pensavo ci fosse ci fosse anche una modalità pv ma per ora non non so come si trovi e si faccia e niente devo dire che comunque mi piace mi piace questo gioco è molto molto carino però ovviamente con una modalità non è che si possa giudicare molto però per quello che sto vedendo molto molto divertente molto frenetico e ninjoso benissimo ragazzi spero vi siete divertiti e adesso vi lascio la programmazione di oggi buon appetito adios ci sono ci sono ci sono ci sono